E' ufficialmente nata l'APTS, l'Agenzia per il Turismo Sostenibile, creata con l'obiettivo di dare nuovo slancio alle vacanze legate al benessere che vedono il Comune di Popoli Terme al centro del progetto. La giornata è iniziata al mattino con un importante convegno sulla sostenibilità come leva competitiva per le aziende. Tema quello della sostenibilità, che oggi è un elemento fondamentale per ogni azienda che desidera crescere nel lungo periodo creando valore per se stessa e per i propri stakeholder ovvero i portatori di interesse. Il rispetto dell'ambiente e del contesto sociale non può più essere ignorato considerando le risorse limitate del nostro pianeta e gli effetti negativi delle politiche non sostenibili sul clima e sulla società. Alla discussione hanno preso parte l'assessore regionale Tiziana Magnacca, Stefano Cianciotta, consigliere amministratore di FIRA, la finanziaria regionale e il professor Pietro De Giovanni, uno dei massimi esperti del settore a livello internazionale. I suoi interessi di ricerca e insegnamento includono, tra le altre cose, le strategie sostenibili e l'economia circolare. Dopo la pausa pranzo, la manifestazione è proseguita nel pomeriggio con un incontro istituzionale in cui sono state illustrate le attività dell'agenzia e i patti di collaborazione già sottoscritti con altri enti e associazioni. Iniziamo con i contributi a partire dal sindaco di Popoli Terme, Dino Santoro. Sindaco Santoro, quella di oggi è una tappa fondamentale, importante, anche se c'è ancora un po' da lavorare, però a che punto siamo arrivati? Sì, io direi oggi è una tappa fondamentale di un percorso che è partito quasi due anni fa. L'idea dei due anni fa di creare un partenariato tra il Comune di Popoli e la società Terme in Popoli spinto verso la direzione del turismo e della ricettività turistica e l'agenzia turistica APTS nasce proprio da questa idea iniziale. Nasce due anni fa, oggi siamo qui a inaugurare la prima delle due strutture che metteremo a disposizione di questo partenariato. il locale del Grottino che è stato totalmente ristrutturato, verrà adibito a ricezione, a infopoint, tutto ciò che va nella direzione di informazione turistica, ricettività e tantissimi altri progetti che abbiamo in mente su questo locale. L'altro stabile che metteremo a disposizione è quello delle vecchie Terme, lo stabile delle vecchie Terme che ancora non è pronto quindi partiremo adesso, siamo in fase di progettazione esecutiva per i lavori e andrà ad abbinarsi a questo primo locale. Tutte e due saranno il centro di questa agenzia del turismo, un'agenzia del turismo che nasce due anni fa da un dialogo così fatto, invece che adesso sta prendendo piede, sta prendendo piede anche in carattere regionale. Sono tantissimi i partner che sono entrati nell'agenzia, sono parecchi comuni e questo va nella direzione che l'Abruzzo dovrebbe eseguire, quello di unire le tante realtà del territorio per creare un'offerta unica, perché l'Abruzzo ha tante peculiarità, tante unicità, se noi riusciamo a metterle tutte insieme diventiamo una regione davvero forte. Sotto questo aspetto volevo ringraziare anche il lavoro che ha svolto la regione Abruzzo perché ci è stata veramente vicina, ci ha supportato in tutti questi passaggi e quindi anche grazie a loro, grazie alla struttura di missioni, grazie al commissario straordinario della ricostruzione siamo arrivati a questo punto e non posso che esserne orgoglioso di questo risultato. Un cammino virtuoso partito due anni fa come ricorda l'assessore Mario Lattanzio. Assessore Lattanzio, lei insieme al sindaco Santoro ma anche all'amministratore unico Benigno Dorazio è uno di quelli che ha scommesso sin dalle primissime ore su questo progetto. Allora le chiedo quali sono i punti di forza? Sicuramente il punto di forza per la nostra cittadina è che siano ripartite le terme in maniera sostanziale, nel senso che già quest'anno si vede un miglioramento rispetto all'anno scorso e il paese comincia anche a muoversi in un certo modo, si cominciano a vendere anche delle abitazioni a stranieri, c'è un flusso diverso di persone e quindi adesso noi come amministrazione dobbiamo andare dietro al proprietario delle terme nel senso che dobbiamo arredare bene il paese, creare degli spazi ben visibili che possono essere poi usati da chi viene qui a fare le terme e quindi è un paese diverso, dobbiamo dare questo sogno a tutti che è un sogno di, chiamo sogno perché all'inizio era un sogno, adesso si sta concretizzando però bisogna che ogni anno chi viene trova delle cose diverse, quindi sia sull'arredo urbano, sul verde, dobbiamo andare molto su questi argomenti. Io poi ho questa delega dell'ambiente che è molto importante, le terme si coniugano bene con la sostenibilità, quindi andiamo avanti su questo solco che abbiamo iniziato qualche anno fa. Su questo percorso chi vi aiuta? Magari istituzioni superiori al comune? Certamente la regione è molto vicina ma anche il governo stesso, poi noi abbiamo buoni rapporti anche con gli altri comuni vicini, quindi c'è un gioco di squadra, adesso c'è anche Raiano dove è stato rilevato questo stabilimento termale, abbiamo un ottimo, siamo collegati bene anche con l'amministrazione Raiano perché non è che puoi lavorare da solo, deve essere una cosa che sia un collegamento fra tutti i comuni vicini, specialmente chi ha questa particolarità che è le terme, quindi con Raiano secondo me ci sarà un discorso molto stretto al riguardo. E tra le istituzioni già citate, ecco la regione. Presidente Marsilio, progetto Popoli Terme, ma io direi di allargare il discorso perché la regione ha puntato molto e punta molto sul turismo termale. Sì, noi cinque anni fa abbiamo trovato il turismo termale in Abruzzo all'anno zero, anzi peggio nel senso che Popoli e Caramanico in prefallimento, un fallimento che poi si è conclamato durante il Covid e da cui non se n'è uscito, almeno a Caramanico, Rivisondoli che era un'altra stazione termale che non era mai stata presa in considerazione dalla regione né accreditata con il servizio sanitario. Oggi la situazione è ben diversa perché Popoli Terme è una realtà, la città ha cambiato nome, ha investito su questo asset, è arrivato più di qualche investimento importante, compreso quello del fondo complementare del PNRR per la ricostruzione sismica che abbiamo fatto insieme al commissario Castelli e che permetterà appunto di qualificare l'offerta termale di questa città. A Raiano sta partendo un nuovo attività e nuovo stabilimento, Rivisondoli è stato accreditato e convenzionato con il servizio sanitario nazionale. A Caramanico attendiamo a giorni il DURC dell'azienda che ha vinto la gara per la concessione delle acque termali, abbiamo inserito nell'accordo di coesione 9 milioni e mezzo per realizzare un impianto pubblico in attesa che i liquidatori fallimentari del Tribunale riescano a collocare sul mercato il vecchio stabilimento termale con l'albergo della Reserva. Speriamo che questo avvenga anche se siamo critici verso l'attività dei liquidatori perché hanno fatto a nostro giudizio una valutazione eccessivamente alta, tant'è che per tre diverse aste nessuno ha risposto e la separazione tra l'impianto termale e l'albergo addetta degli addetti ai lavori, cioè di Feder Terme, dei principali portatori di interesse, era un altro ostacolo che non favorisce la partecipazione e l'offerta, però anche a Caramanico comunque almeno su un versante, quello dell'intervento pubblico, si comincia a vedere una strategia e una prospettiva perché questi 9 milioni e mezzo sono oggi disponibili, approvati dal CIPES, aspettiamo anche lì soltanto la bollinatura della Corte dei Conti per poter poi trasferire i fondi al Comune e avviare il progetto. Chiusura con l'amministratore unico dell'APTS Benigno Dorazio. Benigno Dorazio, APTS ovvero Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile, che cos'è? Beh, lo dice il nome, noi promuoviamo un turismo che è il turismo dell'Abruzzo, l'Abruzzo il turismo è sostenibile o non è, è sostenibile significa orientato ovviamente alla natura, orientato in questo caso anche a un'educazione alla corretta alimentazione, orientato al corretto stile di vita e anche alla riscoperta e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. Un sistema di turismo che vorremmo in qualche modo diffondere un po' in tutta la regione anche in termini di accoglienza, un progetto che nasce da tempo e che grazie ai fondi di costruzione, grazie al partenariato col Comune di Popoli siamo riusciti a realizzare in tempi veramente stringenti. Ecco, qui siamo a Popoli, anzi a Popoli Terme, visto che ha cambiato nome questo Comune prima però di parlare delle Terme, del turismo termale, a questa agenzia già in tanti hanno aderito, non soltanto le amministrazioni? Beh sì, abbiamo 62 parti di collaborazione con enti, associazioni, comuni, veramente un successo che va al di là di ogni più rosa e aspettativa e che ci grava di una responsabilità enorme di non deludere coloro che ci hanno dato fiducia sin dall'inizio, coinvolgendogli in questo percorso gestionale, in questo senso abbiamo già previsto una newsletter che manderemo a tutti e in cui racconteremo le nostre esperienze e promuoveremo anche gli angoli più reconditi di questa nostra regione. L'importante per noi è soprattutto guardare ai piccoli comuni, quello è importantissimo perché magari non hanno gli strumenti e i mezzi per fare un'adeguata promozione e noi vorremmo aiutarli a farla. Noi prima siamo stati con la telecamera di Diego Martelli all'interno delle Terme, insomma abbiamo visto che c'è già movimento, ma già da un po', quindi sicuramente questa agenzia darà un ulteriore sviluppo, un ulteriore impulso. Sì, ovviamente il termalismo, la qualità della vita rappresentano sicuramente degli elementi strategici su cui puntiamo per attrarre turisti. In questo contesto la presenza delle Terme con la parte curativa delle acque, ma anche la parte curativa in termini di riabilitazione termale, siamo i primi in Italia a fare questo servizio, oggi sono già liste di attesa, quindi dovremmo potenziare questa parte, ci dà molta soddisfazione e abbiamo già colto un obiettivo strategico che c'eramo posti, Terme aperte, Terme per tutti, tutto l'anno, perché ovviamente stiamo promuovendo tutta una serie di iniziative per il turismo sociale, per le persone più deboli, cercando di andarle a prendere nei loro paesi, portarli qui, grazie alla collaborazione con i comuni, con i servizi sociali, con le cooperative e riusciamo, quest'anno avremo veramente un'esplosione di questo tipo di turismo ed è la cosa che ci fa più piacere di ogni altra, perché ovviamente dare questa possibilità a chi normalmente non se lo può permettere per noi è un obiettivo strategico. Quella di oggi è una tappa importante, prossimo passo invece dell'Agenzia quale sarà? Il prossimo passo è quello di creare questa ATP virtuale che collegherà in modo sinergico tutti i comuni che partecipano a questa iniziativa, fare una newsletter che manderemo a tutti i comuni e poi creare uno staff a servizio di enti, comuni, associazioni per dirimere e dipanare tante questioni o comunque elaborare progetti, avere consulenze in materia turistica con degli esperti di grande qualità. Quindi spazio anche alla formazione? Assolutamente, è fondamentale la formazione, noi vogliamo formare le guide del benessere e abbiamo bisogno di tante persone, abbiamo già fatto 100, una prima formazione che è basica, in cui anche tutti gli operatori delle terme hanno fatto questo corso, perché io voglio che anche chi fa il fango o qualsiasi trattamento minimale ha una domanda del cliente deve sapere rispondere su quello che l'azienda porta avanti. Quindi ci teniamo molto a questo tipo di formazione che tutto sommato, se andate a vedere, è una forma di accoglienza turistica innovativa e che pone l'Abruzzo in grado di competere con le migliori regioni italiane in termini appunto di accoglienza.